Con l'inaugurazione dell'anno accademico abbiamo per l'appunto inaugurato anche la nuova sede di Milano, nuove attività, progetti con il comune di Napoli, con accordi con la provincia dello Shaoxing in Cina. Abbiamo il congresso mondiale sulle calzature, siamo partiti con un progetto interessante con le imprese, con importanti imprese del mondo calzatoriere, delle borse, del fashion, della sartoria, per formare giovani anche con l'aiuto del ministero, delle regioni e quant'altro, con un istituto tecnico professionale per la moda. Veramente tante tante novità. Quello che stiamo portando avanti come verbo è parliamo napoletano in terra straniera, cioè non vogliamo assolutamente uniformarci agli altri modelli, ma raccontare la nostra storia. Credo che sia la chiave di volta, cioè da dove partire per poter raccontare la nostra italianità. C'è un grande ritorno a questo mondo, una grande richiesta a livello mondiale, bisogna saperla sfruttare.